A Marcelli si gioca la sesta giornata della Gold Cup 5, girone L8 tra la Consul Chimica Rez e Trinca Real. Consul Chimica Rez che in classifica ha 12 punti, mentre Trinca Real ha ancora 0 punti. Inizia la gara qui con il Trinca Real che prova ad uscire, intercetta Minutello dal sinistro e Bagnarelli alza sopra la traversa, qui è Trinca con cartoni e Terzabio con i piedi, sopra l'Aluisi da due passi non trova la porta qui e Vescovo che si allarga, ma calcia al lato. La Sicelli avanza al sinistro e Bagnarelli con i piedi salva, ancora la Consul Chimica, palla in mezzo a Tavoloni e Bagnarelli ancora. Trinca Real che avanza con Starnari, palla dentro e Delzabio, palla pericolosa salvata. Minutello, destra e Bagnarelli la toglie dal set. La palla a Luisi dalla destra, davanti a Bagnarelli che si salva ancora, la partita non si sblocca, Vescovo il sinistro del Zabio che avanza e rischia, perde palla. Bagnarelli ci prova, non trova la porta. La palla in area per Maucione che dirabona, colpisce il palo esterno. La palla a Trinca Real con Bertinelli in destra, la deviazione del difensore che per poco non batte Delzabio. Cardoni in destra e para con i piedi Delzabio con la Cardoni per Pesco che non riesce ad allungarsi. La palla in centro a Real Uisi che si gira, spalla la porta e segna il vantaggio da Consulchimica al ventiquattresimo. Proverà a girare subito la Trinca Real con questo destro di Bertinelli. Palla ancora a Luisi che si gira e Bagnarelli blocca. Consulchimica finisce il tempo in avanti, il destro di De Giorgi. Il primo tempo. Il secondo tempo subito avanti la Consulchimica con Castagnari dietro per Minutello. Tutello in mezzo per Aluisi. Era il doppio, 2-0, primo minuto. Prova a attaccare il Tricca con Pesco. Il sinistro è alto, ancora Pescovo. Prova a liberarsi, ma non riesce. Ancora il Tricca. Tavoloni per Pescovo. Il sinistro accorcia la distanza e riapre la partita. 2-1, al decimo minuto. Ancora Tavoloni. Il Sabio si sbucca i piedi. E Fraticelli. La palla sfiorata da Luisi. Ancora il Tricca con Pescovo. Il Sabio non ha nessun problema. De Giorgi il destro. La direzione di Bagnarelli. Sfortunata l'autogol. Il 3-1. Il diciassettesimo. Riallunga la Consulchimica. E subito 4-1. Con questo gran sinistro di Fraticelli. Fraticelli. Avanti Trinca. Fior d'oliva. E il Sabio. Le spinge. Ancora Gran Traversa. Di Pescovo. Con questa girata di sinistro. Poi il Tavoloni. Ancora Pescovo. La palla non entra. Lui riesce a riaccorciare la distanza. Ancora Pescovo. E la palla rubata da Luisi. E Bertinelli si salva con i piedi. Con il portiere avanzato. Ancora con il Zucchimica. La palla a Fraticelli. La bella parata. Di Bagnarelli. Questo grande sinistro. Qui la punizione di Mosca. Che termina fuori. Ma finisce qua. Col trepice fisco. L'arbitro Virgili.